Ciao, sono Matteo e oggi vi presento una novità di Molic, lo sligozzo. Oggi proveremo quest'esca montandola con un piombo in tunsteno del peso di 1,8 e un amo decoy del 3.0, classica montatura Texas, molto leggera e proveremo a skipparlo o a picciarlo ridosso degli ostacoli. Eccolo qua. Ok, andiamo a provarlo. The world belongs to me. The world belongs to you. Everyone above the world. The world belongs to me. 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 The Grazie a tutti Grazie a tutti